Nel quattro ore, Marco Buonamico, Yuri Fancetti si vuole fare i pechi e Marco, ma non ci vengono arrivati nel piazzo di San Giorgio. E' arrivati ai nostri assistenti di gara. Cosa segna il nostro nome? Vediamo, siamo ristorizzati il tempo perché noi da qua non vediamo assolutamente niente. Siamo pronti, siamo pronti per fare cosa? Per fare delle considerazioni pazzesche al gruppo delle quattro ore che hanno dato l'anima, il 110 per cento, sono stati meravigliosi. Ragazzi, Firenze ci ha potuto porre gli applausi, siamo arrivati con il cuore, è stato uno spettacolo. Uno spettacolo, uno spettacolo a che vedere la Firenze, non sono tutt'ora, non sono da fare quelle quattro ore che mi hanno avuto passato. La Firenze è fatta anche la guida, è arrivata veramente contenta. Firenze è vero, è un'amore da vivere e da visitare, è vero è tutta. Lo dicevo, lo diceva, è perché che non solo questi erano particolari perché non erano, ma hanno fatto la guida turistica. Stemma, abbiamo un personaggio un po' particolare, un po' particolare, vieni qua, vieni qua, vieni qua, ti rilassati un attimo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua Stefano. Su l'intervistiamo, vieni qua, rilassati un attimo.